Grazie a tutti. Il tempo di condividere il nostro evento un po' dappertutto e poi ci siamo. Hai registrato o ti faccio una domanda nel frattempo? No, no, siamo già in diretta, siamo già in diretta, assolutamente, adesso il tempo solo di condividere anche all'interno della pagina, del gruppo del Cantiere delle Donne e poi ci siamo, ci stanno sentendo fondamentalmente. Allora, eccoci qui, infatti adesso lo condividiamo anche sul nostro gruppo e poi ci siamo. Intanto vedete la locandina. Vediamo se riesco. Vabbè, intanto facciamo così, così vediamo. Allora, vi mostro le nostre ospiti, eccoci qua. Buongiorno e anzi, buonasera a tutti. Buonasera. Tre donne con me, buonasera per parlare di viaggi, di viaggi in un momento un po' particolare. Vi presento Antonella Ruperto, Teresa Broccadello e Roberta Torri. Abbiamo una romana e due veneti, diciamo così. Sì, prendiamo un petto dell'Italia e tre si occupano di viaggi. Allora, io vi faccio presentare in modo, insomma, che le donne possano capire chi siete e che cosa fate. Prego, Antonella vuoi provare tu a iniziare? Visto che sei la non bella del tempo. Tanto grazie per averci invitato, Michele, è sempre un piacere stare con te, insomma. Grazie. Io mi presento, sono Antonella Ruperto, ho 48 anni e sono da 20 anni un agente di viaggio. È stato il mio primo ed unico lavoro, in realtà, perché essere agente di viaggio è anche una missione, quindi quando riunizi è difficile che provi altri lavori e hanno lo stesso entusiasmo come diventare un agente di viaggio. Sono tutelare di un tour operato che si chiama Happyland Viaggi, è a Mentana, in provincia di Roma, e si occupa principalmente di turismo scolastico, quindi portiamo in giro i giovani sia bambini di scuola primaria che secondaria, ovviamente, ed è un lavoro che ovviamente l'abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo, quindi sperando che questa situazione si risolva al più presto. Che cosa faccio oltre a organizzare i viaggi insieme all'equip? In realtà ho scritto un libro, lo mostro, non so se si legge, 50 sfumature di un agente di viaggio, e questo è stato, prima del Covid, era stato un motivo di far capire le strategie pratiche per raggiungere il successo e diventare un agente di viaggio forte, questo è stato il motivo. Ora lo è ancora di più perché effettivamente direbbe rileggere con un'ottica di cambiamento. E questo è. Quindi grazie di averci invitato e di parlare di noi. Assolutamente. Teresa, passo la parola a te? Sì, certo. Allora, io sono un po' più grande di Antonella, quindi non dico gli anni. Faccio turismo da oltre 40 anni e mi occupo di due brand, quello che mi sta più a cuore in assoluto, perché l'ho voluto tantissimo e l'ho creato, diciamo, sulla base di esperienze di accompagnamento, soprattutto durante la mia carriera. Si chiama Viaggi in Rosa ed è prettamente dedicato al mondo del turismo femminile. Praticamente si tratta di una community di viaggiatrici, dove sviluppiamo vari temi di viaggio nel corso dell'anno. Da marzo praticamente si è fermato tutto per il nostro mondo e come per le colleghe. Dobbiamo cercare però di tenere duro e di soprattutto pensare al futuro. Io sono sempre molto, diciamo, positiva, nel senso che non mi scoraggio mai, ne ho viste di ogni durante questi 40 anni, quindi la corazza è abbastanza dura. Quello che spaventa in questo momento è questa incertezza, questa praticamente non conoscenza di cosa c'è e quanto lungo sarà questo tunnel da passare. Quindi è la cosa che a noi ci spaventa di più, perché ovviamente siamo pronti per ripartire, stiamo investendo tantissimo sul futuro, perché è innegabile che dopo questa pandemia il turismo cambierà. Non sarà più quello di prima, non sarà più possibile fare e viaggiare come si faceva una volta. bisogna rivedere un po' tutti i nostri parametri, le nostre conoscenze. Noi siamo pronti, però bisognerebbe cominciare a avere anche delle certezze, perché dopo nove mesi di fermo abbiamo bisogno di poter lavorare. Ecco, questa è un po' in sintesi l'esigenza che c'è. Roberta, a te la parola, così facciamo il giro delle presentazioni intanto. Allora, anch'io sono una vecchia agente di viaggio, nel senso che io ho fatto solo questo, non so fare altro, sinceramente. Da quando ho finito la scuola ho accompagnato sempre gruppi in giro per il mondo e dal 2003 ho la mia agenzia, siamo in quattro, facciamo turismo scolastico principalmente, viaggi di gruppo, quindi accompagnando sempre da una vita e chiaramente abbiamo il banco con gli individuali. In questo momento i viaggi di gruppo sono tutti sospesi, io guido anche i pullman e vedo la situazione triste dappertutto, quindi anche i colleghi autisti ovviamente sono in difficoltà, tanta difficoltà come lo sono le agenzie di viaggio, come un po' alberghi, ristoranti, c'è tutta una filiera che ci gira intorno e che ovviamente soffre. Le certezze che diceva Teresa le aspettiamo da tanto, io magari sono un po' più, non sono così ottimista come dice lei, io sono un po' più arrabbiata perché sento sempre tante proposte, tante vedo tutti i giorni ristori qua, questo il bis, il tris, bim, bumba e alla fine non arriva mai niente. E noi è da marzo, dal 10 marzo che le scuole chiaramente ci hanno detto ciao, non pagano perché lo Stato gli ha dato questa possibilità e quindi le difficoltà ci sono. Ce la mettiamo tutta perché io non ho intenzione di mollare questo discorso, cerchiamo anche di reinventarci. Adesso Antonella ha detto che lei si è fatta il villaggio di Babbo Natale, eccetera eccetera, anche noi abbiamo inventato qualche cosa, viaggiando col gusto, perché adesso siamo sotto Natale e quindi magari la gente spende qualche soldino in prodotti tipici e cose del genere, ma il nostro sogno è tornare a fare i gruppi come prima. Avere le ragazze in cassa integrazione a me fa male, io le voglio qua in ufficio con me perché ho due brave ragazze e le voglio con me. Adesso siamo in due, eravamo in quattro e lavoravamo giorno e notte per quello che è il nostro lavoro, che è il nostro sogno, che ci siamo scelte insomma. Quindi in questo momento la situazione è triste, sarà triste, è Natale triste rispetto a tutti gli altri anni dove lavoravi come una matta e dove non avevi mai orari e adesso è buio, alle sette puoi andare a casa. Ma nemmeno i viaggi di lavoro? No. Vedi, hai tre risposte. Anzi, penso che il business travel sia ancora messo peggio perché dalle notizie, dalle sensazioni che abbiamo, le aziende si sono ormai un po' abituate a lavorare in smart working e quindi tantissimi viaggi che venivano programmati magari per visite aziendali o comunque il tecnico che si recava sul posto, hanno capito che possono essere gestiti la maggioranza a distanza, quindi quello sarà un settore che sarà veramente da rivedere con la ripartenza. Ma poi proprio hanno la difficoltà di raggiungere le mette. Prenoti oggi un biglietto aereo e domani te lo cambiano. E dopo vai a litigare per avere i soldi indietro, ti danno voucher e insomma la gente non li accetta. Sta parola voucher che ormai è di uso comune. Spiegatacelo un attimo perché prima nel predice abbiamo parlato soprattutto delle scuole, perché c'erano le gite scolastiche, c'era chi probabilmente... Io sono la prima, mio figlio aveva già pagato un viaggio quest'estate in Spagna, ovviamente è stato cancellato, erano 15 giorni a scuola fondamentalmente e stiamo ancora avanzando i soldi, ovviamente il biglietto aereo e quant'altro, ovviamente la scuola ci ha già rimborsato, però manca tutta l'altra parte. Spiegataci come funziona. Vai Roberta, vai te, vai te. Allora, per la scuola se vuoi ti rispondo volentieri. Allora, le scuole dovrebbero dare sempre l'acconto alle agenzie di viaggio e noi chiaramente lo diamo ai nostri fornitori. Quando compri un biglietto aereo lo paghi e la scuola te lo deve pagare. Adesso parlo per me, io sono in guerra con la Ryanair perché non rimborsa e tante scuole non hanno neppure pagato, non hanno neppure pagato e quello è il bello perché nel momento in cui il 23 di febbraio è stato detto basta ai viaggi scolastici, le scuole hanno avuto o si sono arrogate così la possibilità di dire non paghiamo. Però io i biglietti aerei per te ho un contratto, li ho comprati e li ho pagati. Adesso Ryanair si è inventata che non vuole rimborsare le agenzie di viaggio ma rimborsa il cliente. Ma se il cliente è la scuola e la scuola non mi ha pagato, i soldi sono miei, me li devi dare. Quindi adesso chiaramente devi mettere in mezzo avvocati, legal mail e dall'altra parte hai comunque le scuole che pretendono i soldi per chi li ha dati, non accettano il voucher che comunque con il Cura Italia con questo decreto che ne è uscito ci dà la possibilità di avere un po' di liquidità quindi di poter sopravvivere, ma il voucher lo trovi non solo da noi agenzie di viaggio lo trovi nei concerti, lo trovi mai una parola di uso comune cioè non è per il turismo scolastico un operatore grosso, Alpitour uno a caso ti li dai voucher, tutti gli operatori adesso te li propongono e ci sono stati dei passaggi dove il cliente poteva o meno accettare col Cura Italia ti do il voucher e te lo tieni, è fatto apposta a Cura Italia per salvare un po' quelle categorie che sono in difficoltà poi hanno messo dei paletti, ci sono delle regole da seguire però insomma in linea di massima se la cosa funziona però il difficile è parlare con i presidi sembra che prima eravamo tutti bravi che bravi, che belli, che precisi, che siete bimomà adesso non esiste più nessuno perché dall'altra parte loro hanno le famiglie, devono rimborsare quindi si capisce questa cosa qua però magari si dovrebbe un po' parlare, spiegare far capire che c'è una filiera dietro insomma c'è un lavoro svolto anche un liceo di guadagnare ma almeno il lavoro quello che abbiamo parlato in questo momento ci troviamo in quattro donne ma è un lavoro da donne quello dell'agenzia di viaggio? secondo me sì secondo me sì con un giornalista che mi accusava di essere troppo a favore delle quote rosa in realtà per me lo è un lavoro da donna perché l'accoglienza, la capacità d'intuito la volontà di assecondare i bisogni dei nostri clienti di comunque di interagire con il cuore piuttosto che con il razziocinio maschile quindi per me lo è anche se i migliori agenti di viaggio sono anche uomini diciamo quindi anche il 99% perché la voglia di accoglienza infatti le scuole del turismo il 99% sono tutte ragazze perché? perché è femminile è puramente femminile l'ascoltare il dare consigli il dare il consiglio giusto che sia insomma nel riferimento ovviamente al viaggio secondo me lo è secondo me è femminile questo è il sto mostrando il sito tuo perché poi c'è anche questo metodo sì unfucked with able sì impronizzato che vuol dire? che vuol dire? esatto difficilissimo infatti non l'ho detto perché se no mi si intorco la radica no ed è facile unfucked with able che tradotto sarebbe è una parolaccia in realtà infatti Facebook quando pubblicavo la foto della copertina me la bloccava sempre perché ho dovuto cancellare questa parola perché in realtà è inchiavabile cioè non sei nessuno ti può fregare dai mettiamo la cosa in italiano ok Facebook ogni volta mi bloccava il post perché non andava bene unfucked with able in realtà è uno stile di vita perché se sei predisposta al cambiamento quindi se cambi la tua mentalità ti fissi un obiettivo lotti per quell'obiettivo in realtà sei predisposta al cambiamento diventi comunque io dico sempre infallibile perché comunque sei te l'autore e la forza motrice sei ti quindi se vuoi migliorare se vuoi cambiare ottieni quello che vuoi anche in questo momento? diciamo di sì dai perché io in questo momento sto facendo molte consulenze con i nostri colleghi per dare un po' di diciamo di positività dai diciamola così chiamiamola così perché vedi tanto ovviamente negatività ma è una negatività oggettiva perché non è che possiamo fare grandi sforzi se non è quello non entra nessuno però se noi ci formiamo studiamo cerchiamo qualcosa che la ripartenza ci deve stare quindi prepariamoci alla ripartenza cioè quello che io dico sempre perché ce la mettiamo tutta affinché il vaccino dovrà arrivare non potremmo vivere perennemente così insomma si tratta soltanto di sapere questa famosa data però io dico sempre che se nel mezzo nell'attesa anziché stare fermi e accettare o piangerci questo stato d'animo e piangerci addosso non si ottiene nulla quindi io ad oggi studio la mattina studio ancora nel senso che non mi fermo cioè mi piace comunque informarmi su ogni fronte su ogni fronte da marketing da come accogliere il cliente che sarà un cliente diverso perché sarà un cliente che vorrà le mani in pasta quindi gli itinerari che faremo non saranno più gli stessi che abbiamo fatto nel 2019 ma sarà un cliente più che devi emozionarlo che lo devi far mettere con le mani in pasta quindi tutti gli itinerari che stiamo studiando saranno al 100% che devono generare emozioni quindi che dovranno anche in Italia soprattutto in Italia infatti avevo immaginato a proposito di donne Teresa viaggi a rosa giusto? se non sbaglio raccontaci allora perché tu fai appunto crei proprio dei viaggi a rosa per le donne sì allora partiamo da un presupposto che è è che qui tu parli di esperienze quindi viaggi a portare viaggi al tema allora in periodo pre-covid già per me parlare di viaggi di gruppo significava parlare di viaggi di 6-10 persone al massimo perché io considero l'esperienza deve essere vissuta al 100% quindi arrivo da da una storia di accompagnatrice quindi ho fatto la gavetta con i gruppi con i pullman poi mi sono diciamo elaborata il mio diciamo lavoro personale ho cercato di scegliere quello che piaceva a me e mi sono specializzata nel lungo raggio però ho voluto creare qualcosa che fosse un prodotto di nicchia un prodotto che non c'è nel panorama turistico adesso va molto di moda il turismo femminile quindi ci sono ovviamente tante realtà che se ne occupano noi l'abbiamo creato per primi per dare modo di viaggiare a tutte quelle signore che vogliono fare dei viaggi ma magari per x motivi non hanno il compagno o la compagna di viaggio che può viaggiare nello stesso periodo le ferie non coincidono oppure la neononna che ha la figlia che ha il nipotino e quindi glielo affida ma poi quando lascia la nonna libera di viaggiare la nonna non ha le amiche cioè quindi una serie di motivazioni che spingono la donna a viaggiare da sola è molto bello guardando le statistiche penso che i colleghi mi possano confermare questo dato che i maschietti non viaggiano da soli viaggiano di solito in branco le donne invece hanno coraggio viaggiano da sole sono molto più toste più determinate ma ci sono delle destinazioni dove non è semplice viaggiare da sola e qui interveniamo noi perché diamo tutto l'appoggio per noi il plus diciamo è viaggiare con la sicurezza al top abbiamo i nostri pink expert in ogni location che accolgono le nostre viaggiatrici e in ogni posto facciamo fare delle esperienze diverse anche il semplice viaggio alle Maldive non è un viaggio semplice alle Maldive nel senso che non facciamo mai un'isola sola ma facciamo più isole il famoso jumping con delle attività delle esperienze già incluse nel pacchetto cioè è un tipo di viaggiare un po' diverso dal solito viaggio in villaggio o quant'altro ci occupiamo poi di viaggi ecosolidali perché in tutte le nostre mette in tutte le località siamo in contatto con delle cooperative al femminile in maniera di dare anche dello slancio anche in alcuni paesi dove non è così semplice fare cooperazione al femminile ovviamente siamo molto green quindi per esempio cerchiamo di ridurre l'utilizzo della plastica durante i nostri viaggi forniamo una boraccia con i refill per non utilizzare il bottiglione di plastica e non utilizziamo escursioni in cui vengono impiegati bambini o animali perché penso che sia una cosa da evitare e a volte ce lo chiedono noi non non facciamo parte ecco di questa di questa filiera che va ad alimentare un tipo di turismo molto consumistico e commerciale quest'anno dobbiamo ovviamente rivolgerci al territorio italiano quindi siamo un po' per forza di cose dovuti reinventare un pochino e allora abbiamo puntato sul turismo di attività era una cosa che già facevamo nel sud-est asiatico quindi i viaggi in bici il trekking il hiking e lì è molto più facile farlo perché chiaramente sono molto più preparati e lo stiamo riproponendo anche sul territorio italiano e il problema è che non ce lo fanno fare nel senso che siamo cinque regioni gialle e è un po' riuscire a pensare di fare anche turismo in Italia cioè quindi è solo quello in questo momento forse ci apriranno per andare dai parenti da una regione all'altra ma è sempre un forse perché ne hanno parlato oggi Roberta invece tu Renegade viaggi dove si trova e che cosa fa? Allora noi siamo a Campo San Piero quindi dicevo alla collega romana siamo nella campagna padovana quindi siamo a circa venti chilometri da Padova e noi facciamo principalmente turismo scolastico viaggi di gruppo e banco quindi visite accompagnate principalmente ecco io non vado con sei otto persone ma io punto ai gruppi da 40 e 50 continuo continuo ancora parrocchie centri sociali craal queste cose qua con i gruppi gruppi di amici eccetera e poi vabbè ci sono gli induvandi che in base a quello che ci chiedono noi cerchiamo di dare coccolare soprattutto e dare la nostra esperienza perché chiaramente avendo la passione dei viaggi tutti e quattro se uno viene dentro e mi dice voglio andare in Sudafrica dico bene ti faccio parlare con la Laura magari che c'è stata vuoi andare in Kenya parli con me ognuno porta le proprie esperienze e poi chiaramente quando uno va sul posto lo spiega bene si è fatta tutte le varie escursioni sa dare insomma dei consigli diversi da uno che prende un catalogo e glielo fa così quindi insomma gli spieghi un po' a 360 gradi cerchi di chiaramente riportarlo sempre qua nel nel nostro nella nostra agenzia ovviamente di mantenere il cliente e poi quando è via lo chiami lo senti quando torna lo risenti tutto bene siamo sempre qua e adesso vi faccio la classica la classica domanda perché ovviamente quella è un'altra cosa internet l'online le agenzie di viaggio possono ancora sopravvivere? assolutamente non è un nostro nemico internet è un nostro alleato cioè chi non ragiona così secondo me non ha grandi grande futuro io parlo per me per carità però penso la domanda era un po' diversa secondo me quella di michela perché internet che è una persona sì esatto i famosi portali che sappiamo dove tu ti organizzi la vacanza e tante volte ti prendi le famose fregature perché ovviamente non conosci e questo è bello di internet perché così la gente capisce che se andasse nelle agenzie di viaggio avrebbe dei professionisti che utilizzano comunque internet però lo utilizzano in maniera giusta e possono darti consigli l'esperienza la garanzia la sicurezza tant'è vero che con il covid voglio vedere chi non ha portato a casa quali agenti di viaggio non si sono dati da fare per portare a casa anche clienti che non erano nostri ma che si sono comprati il biglietto aereo da solo non sapevano tornare quindi ti chiamano cosa faccio e tu anche se non hai un tuo cliente per amore di patria perché alla fine non ci hanno pagato io ne ho portati a casa tanti ecco ricomprando biglietti risistemando eccetera eccetera se loro hanno comprato il biglietto da soli online magari non lo sapevano fare e nel momento in cui qualcuno prende e io ho l'esperienza di qualcuno che si è prenotato in internet e poi ha trovato un garage anziché l'appartamento e viene in agenzia e dice se non dire niente a nessuno perché ho preso la classica fregatura eh dietro però da parte mia c'è un sorriso dico se venivi qua magari invece di spendere prima forse ti davamo un consiglio giusto prima non è che le agenzie ci marciano siamo qua tutti per lavorare ma non è un lavoro cioè chi fa questo lavoro non lo fa per essere ricco e Antonella me lo può confermare anche Teresa lo fai perché hai l'amore di fare questo lavoro perché se avessi scelto fare l'avvocato magari avrei qualche altro stipendio se fai mi sa che no non tanto perché ho sentito che gli avvocati non viaggiano tanto bene in realtà tante professioni in realtà si stanno rivedendo è una cosa secondo me che in questo momento forse spero che verrà appenaata più avanti tra la qualità è questo che dici l'online non te la dà la professionalità dove la trovi a meno che tu non sia bravissimo ecco l'online bisogna vederlo come un amico perché io spesso prendo tanto spunto dall'online dagli itinerari ma anche dallo stesso cliente io mi collego con il cliente in diretta per far vedere che la mia offerta è sicuro che è più vantaggioso per notare da me visto che l'online ha lo stesso prezzo quindi io lo uso come diciamo anche come un amico per far capire che comunque viva il sorriso viva l'abbraccio viva la chiamata dopo del dopoviaggio viva il fatto che io ti possa consigliare e secondo me adesso in questo momento storico quando riapriremo c'è bisogno di umanità c'è bisogno dell'abbraccio c'è bisogno anche del caffè che ti va offerto c'è bisogno anche della condivisione dell'emozione perché insomma questo almeno per me io non vedo l'ora di riabbracciare come si faceva una volta io spezzo una lancia a favore dell'online perché noi abbiamo un sito che vende solo online però sei agenzia di viaggi non sei portale dove ci sta un po' tutto però ci sei dietro Teresa allora secondo me le le olta le agenzie online non sono altro che delle agenzie bisogna fare un distinto e capire chi ci sta dietro perché se tu parli di agenzie internazionali tipo l'Expedia che ha la sede negli Stati Uniti è evidente che tu compri da un portale e l'assistenza poi ti verrà fatta dagli Stati Uniti quindi secondo me a monte ci sta sempre quello che è diciamo la preparazione dell'utente finale da noi in Italia cosa è successo che l'online diciamo è arrivato dopo che in altri paesi ma ha avuto uno sviluppo molto veloce il covid poi ha accelerato ancora di più questi diciamo questi fenomeni queste queste situazioni e la gente pensa che tutto l'online sia identico non è così perché per conto a me come vale la reputazione dell'agenzia su strada ci sono anche tante persone poco serie e lo stesso è anche sul sul sito online quindi dipende sempre da chi ti offre il prodotto secondo me l'utente deve prima di fare un acquisto in cauto prima Roberta diceva questo ha comprato l'appartamento si è trovato un garage ma caspita prima di mandare dei soldi farai un'indagine dove hai comprato cosa hai comprato molte volte la gente è sproveduta cioè guarda solo il prezzo e magari le belle foto che ci sono all'interno di una finestra che però è virtuale non sai quanto possa essere reale ripeto noi abbiamo fatto una scelta diversa noi abbiamo creato prima del sito abbiamo creato la community cioè quindi c'è una community di viaggiatrici che ha viaggiato con noi che ha avuto modo di testare il prodotto e dalla community è nato poi il sito perché da lì tu puoi dare una specie di stellina diciamo di merito per quello che offri noi non abbiamo la veleità di essere capaci di fare tutto però quello che riusciamo a fare lo facciamo veramente con un'attenzione particolare soprattutto perché facciamo viaggiare donne da sole quindi è un argomento un pochino delicato assolutamente tra l'altro se non sbaglio Antonella tu hai fatto diventare la tua agenzia questa è una cosa un po' particolare praticamente un albero di Natale se non sbaglio l'ho fatta l'ho trasformata perché ho detto adesso qualcosa mi devo inventare perché mi piaceva riintegrare tutto il personale perché ecco come ha detto anche Roberta avere persone che lavorano con me da vent'anni quindi vederle e questa ciclina che non arrivava ha detto inventiamoci qualcosa quindi l'idea è nata da un normale di quanto ci dovranno richiudere e che cosa c'è di bello se non avere una casa addobbata e da lì è nata l'idea di trasformiamolo in oggetti che serviranno ad abbellire la nostra casa quindi è diventata una foto che vedete una piccolissima parte con tutti gli oggetti da candele da babbi natali è una casa dove i bambini vengono e inseriscono la loro letterina stanno lì da ieri c'è anche una bellissima iniziativa che abbiamo portato avanti che è il giocattolo sospeso quindi anche un'iniziativa benefica a favore dei bambini che ovviamente portano il loro giocattolo e ricevono altri indipendentemente dalla situazione economica quindi è carina in modo tale che l'agenzia comunque accoglie gente perché tenerla con le serrande chiuse e la polvere che è di fuori alla vetrina faceva male quindi quando passavo per me era e quindi questa cosa è stata ben accolta soprattutto da tante colleghe colleghi agenti di viaggio italiani è stata accolta soprattutto dai miei vicini di negozio perché vedono comunque c'è vita il resto ecco vedete c'è arrivata una una domanda una provocazione che dice mancano recensioni certificate che diano sicurezza e certezza ai clienti cosa ne dite? chi si riferisce lui? nel senso a quella vendita online? in che cosa era riferito questo? sì probabilmente sì nel senso che effettivamente potrebbero mancare delle recensioni nel senso non ci sono certezze anche nelle recensioni perché sappiamo c'è stato anche tutto il caso di advisor esatto secondo me ti dico la voce più importante è quella dei clienti cioè ripeto io ho dato voce ai miei clienti alle mie clienti nel senso che sono loro che raccontano cosa hanno vissuto che tipo di problematiche che ci sono state come ci siamo comportati ed è quello che secondo me è importante noi non siamo trip advisor che premia il cliente perché mi fa la recensione positiva cioè noi nella community c'è di tutto c'è anche quello che alla fine magari si è lamentato perché non c'erano abbastanza pasti vegani ecco ci sono tante situazioni è vero che le recensioni quelle diciamo dove la gente va a leggere dell'albergo eccetera molte sono molte sono piletate però quello succede in qualsiasi campo anche quando vai a leggere le recensioni di Amazon per dire la metà sono finte sono palesemente acquistate acquistate quindi secondo me uno dovrebbe avere l'intelligenza di navigare un attimino cioè di non essere colpito solo dal prezzo ma dovrebbe fare una analisi abbastanza completa e poi magari anche consultare qualcuno per esempio da noi oltre alla community nei social abbiamo anche un forum all'interno del sito e lì succede di tutto per dirtene una succede molto spesso che le clienti che partecipano al forum si organizzano anche i viaggi per i cavoli loro questo a me potrebbe dare anche un po' fastidio perché in fin dei conti è il mio mestiere organizzare i viaggi però alla fine a me importa che questo forum questa community sia una community vera non è finta è una cosa reale quindi se due amiche decidono che domani mattina vanno a farsi la scampagnata per il foliage o vanno a visitare che ne so l'Umbria per i cavoli loro certo mi dispiace perché magari non hanno pensato di chiedermi l'assistenza però alla fine quello che conta è che vedi che è una cosa vera cioè che non è una cosa preparata con le recensioni con le stelline perché quelle sono sicuramente poco indicative della qualità quindi mi state dicendo che praticamente guardando al futuro dei viaggi quando mai si potrà fare bisognerà guardare alle esperienze soprattutto se non sbaglio alle persone competenti che possono indirizzarti e non farti prendere dei bidoni questo essenzialmente non so il prezzo se dovrà essere calmierato o se si ritornerà i prezzi di un tempo questo lo chiedo anche a voi io temo che i prezzi aumenteranno perché le compagnie aeree stanno avendo lo stesso tipo di problemi che hanno i tour operator e le agenzie di viaggio non incassano da mesi e chiaramente cosa succederà che non tutti potranno resistere nel lungo termine ancora non sappiamo quanto sarà lungo questo periodo cosa succede che quando si andava a comprare un biglietto per andare a Londra con le famose 50 euro questo non sarà più possibile perché sarà molto ridotta l'offerta non ci saranno più 5 o 6 vettori che ti potranno dare la scelta io ti parlo di noi da Venezia per andare a Londra ma non è che scompariranno le compagnie low cost? no non credo beh poi lì bisogna avere una sfera di cristallo bisogna capire quanto no perché poi i viaggiatori avranno paura di non essere rimborsati questo intendo semmai dovesse succedere anche noi anche noi abbiamo paura guarda io personalmente come tour operator non so quanti voucher ho in giro per il mondo ma non solo di vettori low cost anche di vettori importanti ti faccio un esempio banalissimo il gruppo Star Alliance di Lufthansa sono già tre volte che il governo interviene per aiutarli quindi o si diparte o qualcuno ci lascia le penne cioè io ho voucher per migliaia di euro penso che i voucher ce li abbiamo tutti no? Antonella e Roberta assolutamente sì abbiamo anche dei voucher tra l'altro che sappiamo già che non verranno mai onorati perché alcuni fornitori io parlo per me che sono tour operator internazionale il fornitore che ne so della Finlandia non mi restituirà mai dei soldi il fornitore dell'Egitto non mi restituirà mai dei soldi ma non mi darà neanche il corrispondente di servizio e quello è una mancata mancata liquidità che si troverà in corpo l'operatore allora giusto per ci stiamo avvicinando verso la fine cerchiamo di darci un po' una nota positiva perché altrimenti no guardiamo i viaggi perché sono una cosa bellissima lo dicono tutti allora se vuoi ti racconto cosa stiamo pensando noi per il futuro facciamo il spingato e così facciamo veloce veloce allora da un'analisi che stiamo facendo anche perché siamo abbastanza diciamo inseriti nel discorso dei sondaggi del marketing eccetera abbiamo capito una cosa che le persone viaggeranno si continuerà a viaggiare ma sarà un tipo di viaggio molto più individuale perché dovrà essere favorito ancora il distanziamento sociale noi ci stiamo preparando con teleapp quindi per non far viaggiare i gruppi stiamo cercando di dare un servizio in alcuni paesi dove abbiamo forti contatti stiamo creando delle app dove il cliente arriva individualmente quindi con la sua famiglia con gli amici avrà tutti i servizi di viaggio di gruppo un itinerario che potrà seguire sull'applicazione e le guide locali quindi sarà una sorta di viaggio di gruppo però su base individuale stiamo investendo su questo siamo già abbastanza avanti quindi speriamo che per i primi mesi del 2021 sia possibile anche già metterlo diciamo in campo direi una buona cosa Antonella noi ci stiamo puntando molto sulla formazione e sulle consulenze quindi sia colleghi sia scuole quindi il turismo quindi in questo momento storico stiamo lanciando molto dei pacchetti formativi in modo tale che comunque siamo pronti anche noi a parte di impiegare il nostro tempo e poi facendo consulenze ovviamente diamo modo anche a tutte le nostre colleghe di prepararsi quindi al rilancio lo stiamo facendo ecco insieme alla mia collega Giada Marabotto che è un'altra gente di viaggio di Genova e quindi con lei abbiamo fatto un pacchetto formativo che stiamo dando quindi come consulenza dei nostri colleghi questo è il nostro restart quindi speriamo insomma prossimo smettiamo di fare consulenza per ricominciare a rifare quello che è il nostro vecchio lavoro Roberta? Allora in questo periodo di Natale io non è il villaggio di Babbo Natale ma simile io ho messo in pista ti ho mandato qualche fotografia viaggiando con gusto per cui vendiamo dei non so l'English breakfast quindi la tazza con il tè all'inglese le Mozart Kugeln quindi le palle di Mozart i cesti natalizi con i prodotti tipici cerchiamo insomma di passare un po' un Natale sia per passare il tempo ma anche per riuscire a pagare l'affitto vedere se qualcuno entra dentro vedo che i nostri clienti ci hanno detto beh l'iniziativa eccetera quindi anche la voglia stessa di rivederli e prendiamo un caffè al limite tra caffè e mascherina qualcosa faremo ci faremo un saluto e dopo vabbè in questo periodo tanti webinar perché chiaramente fai questo fai formazioni vedi di imparare sempre di più passare anche il tempo perché chiaramente fino adesso non veniva nessuno io comunque tutti i giorni ho aperto la mia agenzia tutti i giorni la mattina a sera io non mollo non ho proprio intenzione sabato compreso non me ne frega niente io sto qua come vedete noi donne non vogliamo anche la venita io accendo le luci e voglio stare qua magari guardo il computer adesso insomma ci siamo inventati questa cosa qua e quindi aspetto che i clienti arrivino io voglio riprendere a fare i gruppi quelli numerosi perché a me piacciono quelli da far cagnara da stare insieme chiaramente con il covid a me piacciono antonella è confusione perché è un modo nostro di dire lo sa e invece magari di fare un gruppo da 50 faremo due gruppi da 20 faremo due viaggi divideremo i gruppi chiaramente tutti in sicurezza ma questo mi darà modo comunque di muovere i pullman di far lavorare le guide gli accompagnatori insomma tutto il ristorante tutto insieme cercheremo tutta la nostra filiera sempre con sicurezza con l'attenzione chiaramente ma io vedo che le mie parrocchie eccetera si chiamano voglia di ripartire i pensionati che magari hanno pochi soldini e mettevano via quei 20 30 50 euro anche per fare solo una giornata di spensieratezza mi hanno detto quando li andiamo è appena possibile io voglio ripartire questo è il nostro pensiero chiaramente mi aspetto che anche le scuole ripartano e in questo momento non si farà e quindi faremo adesso stiamo organizzando dei PCTO online quindi qualcosa così da dare alle scuole perché comunque l'alternanza scuola lavoro eccetera ne hanno bisogno hanno bisogno di contatti quindi con delle scuole inglesi con la quali noi siamo in contatto stiamo cercando di organizzare questi pacchetti studio in cambio dei voucher mi sembra una cosa assolutamente buona come avete visto non ci fermiamo e stiamo pronti a ripartire con una serie di iniziative avete sentito idee come sempre le donne un po' si rimboccano le maniche come anche gli uomini che ci stanno ascoltando ma oggi vogliamo dedicare questa cosa abbiamo voluto dedicare questa cosa il viaggio alle donne anche per capire qual è la situazione allora io vi faccio a tutte e tre un grosso in bocca al lupo ovviamente prima di ripartire tutto vogliamo qualcosa per il cantiere delle donne quindi pensate ci mettetelo già che così organizziamo una cosa bella viaggi delle donne esperienze perché è un po' di tutti i gusti ovviamente quindi insomma avete terreno fertile io vi auguro un buon Natale anche in anticipo perché tanto è partito tutto in anticipo e dateci insomma inviateci info proposte che assolutamente porteremo alle altre donne intanto davvero grazie a tutte grazie per la condivisione assolutamente cerchiamo di viaggiare che ci apre la mente ok ciao arrivederci ciao ciao Ciao, ciao.